buonasera a tutti allora eh oggi parliamo di eh Siero che è una disciplina che mi investe nel mio ruolo da diversi anni eh innanzitutto vi chiedo una cosa qualcuno di voi si occupa di Cro? Wow qualcuno di voi sa cos'è la Cro? Ok qualcuno mi vuole dire che secondo lui che cosa è la Cro? Sì? Un po' più nello specifico di cosa si occupa? Ok? Qualcun altro? Ok. Ok. Altri commenti? Ok. Questa è facile però. Ok. Normalmente io quando parlo di Cro a specialisti, a colleghi, ad altre agenzie la prima cosa mi dicono è quindi tu sei quello che fa gli Abitest? Sì. È eh una parte della Cro. Eh fare Cro sostanzialmente non è solo fare Abitest. Abitest è un mezzo con cui si arriva alla parte di conversione in un sito. Eh questo è molto importante perché eh la Abitest è una piccola porzione del lavoro che si fa, probabilmente è una di quelle finali ma viene eh preceduta da eh diverse attività molto più importanti e molto di più di valore. Quali abiti sono coinvolti? Allora eh la Cro è una eh disciplina che investe veramente tutte le aree. Si parla di campagne, quindi la parte di acquisizione, si parla di front-end, di back-end paradossalmente, di eh analisi del traffico, quindi tutti i sistemi analitici, Adobe, Google Analytics e va anche a toccare tutta la parte social e tutto ciò che può avere eh un concetto di journey, quindi da dove può passare all'utente e su tutti i suoi touch point. Eh mi piace molto il termine che con cui si definisce in questa frase la Cro, disciplina, perché eh eh quando viene capita la conversion rate optimization è proprio un mindset, non è più un'attività, una specializzazione, ma è un modo di vivere i progetti e portare valore ai vostri clienti o la vostra impresa. Questo perché nel momento in cui eh si abbraccia questo tipo di metodologia si cambia proprio il modo di pensare, il modo di rapportarsi con con altre aree di eh di competenza, di sviluppo e questo ci dà modo di aprire molto la mente e di eh agire a 360 gradi sui progetti. Allora eh la Cro è utilizzata come concetto di testing, di sperimentazione, ma in generale di di cultura da svariati anni dalle aziende più grosse, Spotify, Netflix, Google, Amazon, tantissimo. Eh basa praticamente la buona riuscita del degli interventi di massimizzazione del conversion rate proprio attraverso questa disciplina. E Amazon ad esempio lo fa tantissimo, sono capitato un sacco di volte in degli esperimenti di Amazon da utente e ovviamente Amazon è una di quelle aziende come quello che ho citato che vive di volumi incredibili e quindi spostare eh il piccole azioni all'interno del sito anche di pochi punti percentuali o di frazioni di punti percentuali significa per un'azienda come Amazon magari di fatturare milioni di dollari in più al mese. Allora ci sono alcuni eh touch point diciamo eh su cui si può eh costruire questo metodo. Questi diciamo che sono i quattro più importanti e che vanno a investire su eh i concetti principali su cui vive questa disciplina. Innanzitutto il concetto che ormai dovrebbe essere diffuso in qualsiasi eh specializzazione digitale del concetto della data driven. Quindi la la croce ci aiuta tantissimo a uscire dal secondo me ma io ho sentito che io ho letto da questa parte eh una decisione data driven o meglio una argomentazione data driven è molto più forte e molto più sostenibile. Quando io mi rapporto ai miei clienti eh porto sempre dei dati a supporto e quindi difficilmente possono darmi torto. Possiamo convenire con una soluzione migliore di un'altra ma si parte sempre da un presupposto molto forte. Eh un punto molto forte dalla cro è la condivisione eh di di team funzionali diversi. Quindi poter costruire una visione del progetto e non più tu fai una cosa e arrivi fino al tuo pezzo io ne faccio un'altra io ne faccio un'altra ancora e ognuno guarda il suo piccolo conversion rate. Tutti abbiamo lo stesso obiettivo e bisogna intersecare le varie attività per farle eh vivere insieme. Pensare di aver mai raggiunto un limite. Se una cosa va bene uno ha detto che non possa andare meglio. Può anche andare peggio. Però mi è capitato molte volte di avere dei progetti su cui lavoravo eh dove mi veniva detto al cliente ma questa cosa funziona bene. Ok ma proviamo a spingerla al suo limite a migliorarla ancora. Se sta funzionando bene perché non può andare benissimo magari con dei piccoli interventi. E forse il punto più importante che diciamo si allontana un po' dalla vecchia scuola del web design è il non continuare a rifare da zero. Ho una landing che non funziona? Ok facciamo uscire una nuova versione. Ho l'home page che fa eh troppi rimbalzi? Eh rifacciamo l'home page. Ho la pagina di prodotto che non converte? Rifasciamo la pagina. Rifare costa. È un grosso rischio perché può andare peggio di prima e non permette di capire ehm le reali problematiche. Se io ho una pagina fatta in un modo e la rifaccio completamente ok magari va meglio ma per quale motivo va peggio per quale motivo magari butto via qualcosa che andava bene prima eccetera eccetera. Un altro aspetto fondamentale della commercialization è la sua elasticità. Si innesta completamente in tutte le fasi di sviluppo del lavoro. Che voi state per lanciare un prodotto, una nuova attività di marketing. Se il sito è già esistente, se il sito è alla sua fine o al suo nuovo inizio, in qualsiasi di queste eh fasi di vita di un progetto potete trarre vantaggio da questo mindset. Ovviamente calando poi le varie sfaccettature della cro eh di caso in caso. Ma tendenzialmente la metodologia di lavoro è sempre la stessa. Eh allora tendenzialmente il il ciclo di una strategia di cro mi sentirete dire cro 50 volte in questa mezz'ora. Eh vive sostanzialmente di ehm è un ciclo iterativo. Si parte da una fase di ricerca, si studiano i benchmark di mercato, i competitor, eh si mettono a terra delle idee. Sostanzialmente eh queste idee devono puntare a risolvere un problema o migliorano una situazione che può andare bene. Il tutto si traduce in degli interventi di ottimizzazione misurabili, mirati e contenuti. Si eh magazzino dati e si impara. Imparare significa anche molto spesso spostare i commercial rating positivo o farli aumentare. Eh uno dei concetti eh più importanti probabilmente eh di questo di questo approccio strategico che è un po' quello che ho stressato eh nell'altra slide è eh il tipo di matrice strategica che viene utilizzata. Sostanzialmente eh questa è una delle matrici che si è ben utilizzata nei nei progetti di CRO eh modo molto semplice. Tutto ciò che può portare più beneficio possibile e costa piccole cambiare di copy testi ehm piccole pagine piccoli elementi si fanno immediatamente se pensiamo che possono portare un valore. Tutto ciò che costa tanto dobbiamo rifare un widget dobbiamo rifare una pagina. Si lascia la fine e si valuta se fare veramente la fine. Perché magari dieci micro azioni mi hanno portato talmente tanto beneficio che non mi conviene più andare dal mio cliente, il mio capo eh il mio manager e dirgli guarda per fare quest'ultima ci servono venticinque giorni di lavoro e non sappiamo se andrà bene. Eh questo approccio vi consente di lavorare in modo decisamente smart, di fare cose in ore, non in giorni di lavoro, se non in mezz'ora. Due parole veloci su di me. Io mi occupo di eh conversion in rate optimization da circa sei, sette anni, da più o meno quando ha cominciato a entrare un pochino nel mercato italiano a livello di tool e strumentazione e lavoro con clienti un po' di tutti i tipi. E-commerce, publisher, eh siti di abbigliamento e molto semplicemente gli aiuto a aumentare le conversioni. Si è bloccato? Ok. Ora andiamo a vedere due eh degli aspetti fondamentali che ehm che riguardano la parte di CRO. Eh sono molto sbilanciati eh sulla parte più di UX e implementazione eh perché secondo me è la parte più divertente è la parte dove probabilmente molti di voi sono meno abituati a lavorare. Eh però è la parte più accessibile da un punto di vista di tool, di knowledge, di documentazione. Quindi eh quello che mi piacerebbe alla fine di queste slide è darvi dei concetti da approfondire e strumenti su cui potervi divertire sui vostri progetti. Allora un visto che prima ho citato la parte di data driven un concetto eh sicuramente molto importante da da definire è la parte di dati quantitativi e qualitativi. Ehm i dati qualitativi sono tutti quei dati che non sono tendenzialmente numeri o sono più i benchmark sono le ricerche di mercato eh sono più le idee che vi fate voi della conoscenza dei vostri progetti. I dati quantitativi ovviamente sono i numeri, i commercial rate, i tassi di abbandono, le visite eccetera eccetera. Eh perché bisogna dare importanza a tutte e due? Eh allora gli strumenti analitici ci danno un overview importantissima da cui iniziare ma ci danno una visione limitata di quello che sta succedendo. Sapere che il sito è visitato mi fa arrivare a un set di informazioni abbastanza limitato. Sapere che la gente esce da quella pagina non mi fa capire il perché esce da quella pagina. Sapere che la gente non converte non mi fa capire perché non converte. Quindi è molto importante eh partire dalla base analitica per sapere dove guardare. Dove faccio analisi in un sito? Comincio a vedere le aree di inefficienza. Quelle che mi fanno bounce, nei funnel, gli step che droppano, eh le pagine che vengono visitate, la giornata dell'utente dove passa, i percorsi che eh gli utenti disegneranno all'interno del sito. Lavoro sui grandi numeri possibilmente quindi non vado a prendere la pagina dei contatti dove magari ci sono tre visite al mese ma vado a prendere l'home page del sito, le pagine di prodotto eh gli articoli se è un publisher e vado a capire che cosa sta succedendo a livello numerico. Facendo eh questo esercizio molto semplice tra l'altro posso cominciare a farmi le giuste domande perché la gente abbandona in questo step specifico devo andarlo a scoprire. Come faccio a scoprirlo? Uno degli strumenti più di valore se si impara a utilizzarlo bene sono ma le mappe di calore o meglio tutti eh tutta la suite di strumenti che prevede le mappe di calore. Chi utilizza di voi mappe di calore? Pensavo più persone. Ok. Allora eh le mappe di calore sono uno strumento che vi consiglio di inserire quotidianamente nel vostro eh approccio lavorativo per diversi motivi. Allora innanzitutto vi faccio una piccola overview per quanto da strumento a strumento possono cambiare i nomi o altro. Le mappe di calore tendenzialmente sono quelle dove eh che fanno vedere i movimenti tracciati nella pagina, i click o i tap dato che sulla parte di mobile non esistono i click ma esistono i tap e la scroll map o l'attention map che definisce alcune informazioni importanti tra cui la profondità di scroll, la viewport media eh di ogni pagina e altri dati significativi che possono far capire come viene percepita psicologicamente la pagina a livello verticale. Eh la cosa eh che mi viene sempre chiesta eh quando porto una heatmap o meglio un set di mappe è ma tu ci capisci qualcosa? Perché qualsiasi persona onesta guardando una mappa di calore dovrebbe dire è una immagine macchiata non c'è niente da capire qua dentro. È vero o meglio se eh non avete esperienza il primo impatto è sicuramente molto simile a questo. Vedete dei tap, dei click e dite ovvio lì c'è un bottone, lì c'è un'immagine. Con l'esperienza e con delle metodologie di approccio le mappe di calore si può maturare una sensibilità molto alta. Eh attraverso già la lettura di queste pagine macchiate vi posso garantire che si possono scoprire dei problemi enormi all'interno delle pagine che non vi potrebbe dire Analytics. Non perché il povero Analytics non faccia bene il suo lavoro ma perché dovesse tracciare un miliardo di eventi su una pagina per avere eh lo stesso approccio dell'eatmap. Il grosso vantaggio dell'eatmap è che è un approccio passivo. Voi le installate sul sito non dovete dire tracciami con la call to action. Lo fa lui. Lui traccia qualsiasi elemento HTML riconosce o meno con delle limitazioni e lo fa tutto in automatico. Quindi è proprio eh un approccio complementare con l'analitico dove decidete voi cosa per cosa tracciare. Nel mio lavoro ad esempio la base dati qualsiasi essa sia Analytics e la parte di itmap è è un ping pong continuo. Guardo i dati, vado sull'eatmap, trovo una cosa sull'eatmap e la convalido con i dati eccetera eccetera. Più vado avanti più trovo un pattern. Cioè trovo che un dato è correlato a una cosa che ho visto sulla mappa e quella cosa che ho visto sulla mappa mi ha portato a capire una cosa che non avrei mai trovato nei dati a meno che di passarci una vita intera. Un altro strumento molto interessante di tutti i tool di mappe di calore in generale è quello di session recording. Allora session recording è una parte molto interessante di questi tool seppur molto dispendiosa a livello di tempo. Anche qua ci sono molti approcci e metodici che aiutano a ottimizzarlo tanto. Sostanzialmente per chi non lo sapesse, non l'aveva visto, voi utente per utente, visita per visita avete una registrazione di quello che ha fatto. Ovviamente è una registrazione anonima, se no io sarei in possesso di tutte le carte di credito di tutti i clienti che ho visto e non sarei qui probabilmente, dove vengono oscurati i dati sensibili all'interno della pagina, i campi che compila eccetera eccetera. Voi non sapete nulla di questo utente, sapete che ha visto quella pagina con quella risoluzione, con determinato browser eccetera, ma non sapete nulla di più. È dispendioso perché vedere visita per visita è molto impegnativo, ma attraverso dei filtri e altre diciamo piccole tecniche è possibile andare dritti al punto. Anche in questo caso vi posso garantire poche registrazioni, si trovano un sacco di problemi. Ok, tanto quanto heatmap e registrazioni abbiamo alcuni tool delicate da form analysis, questi sono un pochino più sofisticati e funzionano bene dove i format sono una componente super strategica del progetto, vanno a dare informazioni su le interazioni con i campi, i tassi di esitazione, le recompilazioni, capite bene che sono informazioni difficili da estrapolare se non facendo dei user test o comunque analiticamente è veramente una rottura a tirarle fuori. Le survey, un altro strumento che offrono spesso queste suite, dico solo una piccola cosa su questo, tipicamente le survey sono un ottimo strumento perché poche e poche risposte di solito vanno a prendere, a stressare dei problemi comuni a tutti. Tre risposte su un milione di utenti di solito vi fanno imbroccare la strada giusta. Ok, quali tool vi consiglio rispetto a quello che vi ho raccontato? Questi due, non perché uno è meglio dell'altro, meglio, non è vero, Oger è meglio di Clarity, secondo me. Però Oger si paga e può avere dei costi anche un pochino importanti, stiamo parlando magari a regime di qualche centinaio di euro al mese. È più bello, è più ricco, ma dovete saperlo usare meglio. Clarity è gratuito, lo installate, non ha limitazioni di traffico né niente, perché non farlo per sperimentare il suo sito? Ha una dashboard analitica molto carina, lo usate, lo installate sul sito dei vostri clienti, male non fa, non appesantisce, se non per la libreria, provate sicuramente a giocarci. Parte di sperimentazione, qua andiamo un pochino più rapidi perché in verità l'argomento è più complesso, ma è quello dove ci sono più tecnicismi, vi voglio solo dare un overview per farvi capire come funziona. La parte di sperimentazione è ovviamente legata alla parte di A-B test. Allora, ci sono diversi tipi di test che potete affrontare in un progetto online, che sono l'A-B test, il multivariato, il red art e la personalizzazione. A-B test e multivariato sostanzialmente sono mettere a confronto qualcosa della pagina versus quella cosa fatta in modo diverso. Il bottone è rosso, lo stesso bottone lo faccio verde. Il multivariato va a incrociare più aspetti, voglio testare sia il colore del bottone sia il copy del bottone. Avrò una matrice di possibilità che vengono automaticamente generate dal tool. Il red art, scusate, è il test un pochino più semplice a livello di setup. Da una parte mando gli utenti a una pagina con lo sfondo rosso, da un'altra parte a una pagina con due sottosezioni, proprio due siti diversi. Anche questa cosa funziona molto bene. L'ultima tipologia di test è la personalizzazione. Qui ci sarebbe da parlarne per veramente tanto. Mi spiace connessare molto, ma devo farlo. Potete avere la capacità di servire un'esperienza personalizzata di pagina, di call to action, di copy, di qualsiasi cosa sul sito, utente per utente, secondo ovviamente delle caratteristiche comuni. Ad esempio, ho riempito il carrello, non l'ho convertito, ti regalo un buono in un page. Oppure visito il sito, ma non metto mai nulla a carrello, ti faccio apparire un pop-up o ti faccio vedere una cosa sulla base dei tuoi interessi. È uno strumento molto potente da questo punto di vista. L'ultima caratteristica della sperimentazione è la parte di multi-step, cioè abbiamo la capacità, la possibilità di fare all'interno di un sito test che coinvolgono più pagine, un funnel ad esempio, dove ci sono più step, oppure paradossalmente una giorni, l'home page, la pagina di prodotto e la pagina di carrello. Queste tre pagine potrebbero essere assimilabili a un test e essere diversificate rispetto da un utente all'altro. Per questo tipo di approccio vi consiglio di darmi un chianto Google Optimize. Perché è il migliore? No, perché è gratis. O meglio, esiste in una versione gratuita che è praticamente al 99,9% delle sue possibilità. Contate che i tool competitor partono da decine di mila di euro all'anno. Quindi stiamo proprio parlando di una grossa differenza. Io con questo ci lavoro con il 70% dei miei clienti. Stiamo parlando di clienti che fanno decine di milioni di visite al mese e non ho problemi nella versione free. Quindi immaginate cosa potete fare su dei progetti un po' più piccoli. Ok, vado un attimo sulla parte più tecnica. Perché Google Optimize, come tutti gli strumenti che fanno Abitesting, si sposa bene con il mindset WordPress? Perché hanno sostanzialmente la stessa possibilità, in verità qualcosa anche in più. Tanto quanto WordPress, ad esempio, con l'introduzione di Gutenberg o con tutti il Visual Editor che siamo abituati a utilizzare, offre la possibilità, anche per chi non è proprio super tecnico, di manipolare il frontend, quindi costruire delle pagine. Questi tool fanno la stessa cosa. Ci consentono, attraverso un'interfaccia, un'interfaccia a cui si può accedere senza avere accesso al back-end del sito. È una cosa trasparente. Voi installate Ottimize il sito e da quel momento in poi potete fare quello che volete. Ovviamente con un concetto di pubblicazione, non è che cominciate a scrivere cose a casa e lo vedono tutti. Però assomiglia molto al concetto di WordPress. Quindi potete modificare testi, rivedere completamente o parzialmente l'HTML, manipolare il CSS, JavaScript ovviamente, rimuovere elementi, inserirne di nuovi, sostituire immagini e potete capire che facendo tutto questo attraverso uno strumento esterno, voi avete una capacità di intervento sul sito del cliente o su questi progetti paradossalmente molto più ampia. Non dovete più chiedere a l'IT può fare quella cosa lì, non dovete aspettare tutti questi tempi. Potete farla voi direttamente, condividerla con il vostro cliente e buttarla poi online. Vi parlo di tre case. Purtroppo non posso mettere il contesto, gli screenshot, il nome del cliente, perché sono tutte cose anonime, ma è solo per farvi capire la potenzialità di questo tipo di approccio. Questo è un test che ho fatto circa due settimane fa, tre settimane, su una landing page dove non avevo neanche accesso a dati analytics, avevo solo ogger installato. Ho fatto un'analisi un po' oristica, un po' sulla mappa di calore, ho proposto di cambiare il test di un bottone perché pensavo che fosse il problema. I numeri li vedete, più di 18% di click e questa pagina aveva come obiettivo finale quello di aprire una modale fra Scherker on-up, più 120% di conversioni, solo con il test di un bottone. Tempo di lavoro un quarto d'ora per arrivarci un po' di più, qualche giorno di lavoro. Sempre sullo stesso cliente, un altro test che ho fatto molto recentemente, giusto per dirvi che non è che sono cose capitate a caso e fortune, una tabella di comparazione su un sito dove lo stesso mese diceva tu hai questa offerta e dall'altra parte potresti fare questa se mi dai 5 euro al mese, sempre con ogger e basta, senza dati. Ho notato che c'erano delle problematiche a livello di interazione con la tabella di percezione sulla parte mobile, ho semplicemente detto tramite CSS facendo le modifiche, abbiamo praticamente raddoppiato i click e abbassato il tasso dell'invaso sul sito. L'ultima case, questa su un e-commerce, dove sostanzialmente il processo era questo, mettevo a carrerlo qualcosa, come tutti i e-commerce, poi mi chiedeva vuoi loggarti e vuoi registrarti. Quella pagina era stata concepita penso dalla persona più svogliata della mia esistenza, era una pagina bianca con il tuo action bianche sul sfondo bianco, cioè veramente fatta malissimo, magari mi capitassero sempre questi esperimenti e mi hanno detto semplicemente facciamo una cosa un po' più e un po' fatta meglio, separazione delle informazioni in due tab, registrati, se non si è registrato, loggati, meno 34% di drop rate, contate che stavano per rifare tutto il funnel, pensando che fosse sempre un'altra parte. Va sempre così? Assolutamente no. Faccio esperimenti dove le cose vanno male ed è un risultato, faccio esperimenti dove la crescita è molto più piccola, ma anche l'intervento è piccolo, perché se io cambio il tasso di un bottone e faccio lo 0,01% di conversioni, io sono contento. cliente no, perché non capisce il valore dell'attività, però ho cambiato un testo, mi è capitato di stravolgere completamente delle pagine a livello di conversion rate con dei piccoli testi e dei piccoli cambiamenti. Ho finito, lascio spazio per le domande e solo una piccola postilla, nell'azienda dove lavoro stiamo cercando gente che vuole appassionarsi della materia da croco, quindi nel caso. Grazie Nick, un applauso. Su pagine lunghe e pagine a corte, nella versione mobile, quale converte meglio? Quali converte meglio o no? Ti posso dire che qualsiasi pagina lunga, se tu sotto ci metti la ricetta delle lasagne, non la vede nessuno. Io su tutti gli e-commerce che ho visto nella mia vita con le iti, ma tutti, tutti, l'home page viene vista per il 30%, sotto ci puoi infilare quello che vuoi, appunti, i film da vedere la sera dopo, quello che vuoi, non se la vede nessuno. Sì, allora, se parlo in contatto si apre un'altra tematica, che è la percezione visiva del form, il carico di informazioni e tutto. Ovvio che vince un po' la regola meno e meglio. E anche su quello, ad esempio, mi è capitato, su un sito di quelli che facevano, che fanno, scusate, le vendite a tempo dei grandi marchi a solo sotto sottoscrizione, avevo una pagina con un form di iscrizione subito di tipo 60 campi. Guardate, io non sarei proprio così felice di entrare in contatto con questo progetto. Il rosso diviso è step, ho detto i campi, sembra un numero inventato e non mi è, non capitera a me più nella vita. Ho fatto tipo il 1100% di iscrizione in più. Ma la base di partenza era talmente facile che quello era, bastava niente per provoggerlo. Ok, grazie ancora. Nick Marmonti. Grazie, Nick.